Due nuove possibilità di personalizzazione accentuano l'esclusività di DS7 Crossback. Rivolì grigio perla, dal nome della prestigiosa via parigina, si distingue per le cromature esterne, la lavorazione guilloche delle finiture interne in alluminio, le pelli pregiate dei rivestimenti e il raffinato orologio BRM R180 che ruota sulla plancia all'avvio del motore. Opera à Lézanne, sempre ispirata a un luogo simbolo della capitale francese, offre rivestimenti in pelle nappa, plancia con colorazione bitono, pannelli porte con effetto patinato, orologio BRM e sistema di connettività con radio digitale. Campagna internazionale di lancio per DS3 Crossback, SUV compatto premium e nuova icona di stile high-tech, offerto anche nella versione E-Tense 100% elettriche. Una serie di film con formati brevi e impattanti per sottolineare le scelte anticonformiste ed avanguardia di un'auto capace di ispirare un forte immaginario che ribalta tutti i codici tradizionali. Un'iniziativa accompagnata dagli open weekend di presentazione al pubblico e da un'altra grande novità. Dieci nuovi DS Concept Store aumenteranno infatti la capillarità della rete DS, arrivando a 39 punti vendita sul territorio nazionale, per far scoprire le qualità di DS3 Crossback con un test drive, ottenere un preventivo o sottoscrivere un contratto. Prosegue la serie di successi di Jean-Henric Vergne e della DS Eticità nel campionato delle monoposto elettriche. Vittoria nella gara di Monte Carlo, condotta dall'inizio alla fine, e terzo posto a Berlino, rimontando dall'ottava posizione. Il pilota francese allunga così il suo vantaggio nella classifica del mondiale di Formula E, mentre DS Eticità si conferma al primo posto fra i team.